La pellicola sono solo fotogrammi statici, con in mezzo il buio. Il nostro nervo ottico ha un piccolo difetto. E se riproduco la pellicola a 24 fotogrammi al secondo, si crea l'illusione del movimento. L'illusione della vita. Non percepiamo il buio. Il mondo vede solo un raggio di luce. E nulla avviene senza luce. E nulla. Grazie a tutti.